Oggi non è arrivato il tuo gol ma è arrivata comunque la vittoria del Casoria. Sì, la cosa più importante era vincere. Oggi dovevamo fare risultato perché venivamo da due parigi consecutivi e una squadra come la nostra non si può permettere ulteriori parsi falsi. Oggi era importante un solo risultato, vincere per continuare a mantenere quel ritmo che stanno mantenendo le nostre inseguitrici là sopra. Hai avuto non poche difficoltà con i due difensori centrali del Cardito, molto ostici o no? Sì, vabbè, non è questo il problema. L'importante era vincere. Ogni domenica è una guerra. Chiunque squadra gioca contro di noi, sia la prima in classifica, sia l'ultima in classifica, ci fanno sempre la guerra. Ma è giusto che sia così perché è il calcio e nel calcio nessuno ti regala niente. Ma è giusto che sia così. Quindi, come ho detto ai miei compagni, massima concentrazione, massima umiltà perché dobbiamo portare a casa i tre punti.